Canto quel motivetto che mi piace tanto e che fa Swing e jazz con la musica degli accordion sabato 13 a Sala Icos nel quartiere di San Giovanni a Teduccio Eleganti le riletture di alcuni fenomeni musicali del Novecento dal quartetto Cetra al trio Lescano, da Modugno a Carosone e tanto altro ancora La vicenda personale dei coniugi Ceausescu che detennero il potere assoluto in Romania fino al 1989 diventa una storia comico grottesca nello spettacolo Gli Sposi della compagnia Frosini Timpano che sarà sabato 13 e domenica 14 al teatro Area Nord di Piscinola Ancora a San Giovanni a Teduccio al Nest Se questo è un uomo lettura drammatizzata di alcune pagine dell'opera di Primo Levi mentre al nuovo teatro Sanità da venerdì 12 a domenica 14 va in scena monologo con valigia con la regia di Costantino Raimondi su testo di Gerasim Di Schlieff Sala Icos, il teatro Area Nord, il Nest e il nuovo teatro Sanità potranno essere raggiunti col Polibus la navetta gratuita del comune di Napoli disponibile su prenotazione e qua Grazie a tutti.